buongiorno ben ritrovati cari telespettatori oggi al 10 di aprile siamo a lunedì inizia una settimana molto importante soprattutto per i cattolici oggi per i cristiani oggi è la settimana santa inizia la settimana santa settimana che poi ci porterà a pasqua al 10 di aprile dicevo cominciamo con il santo oggi la chiesa ricorda anche un profeta zichiele il sole sorto alle 6 34 tramonte la 19 45 saltiamo il tempo perché sarà tempo bello oggi domani e dopo domani e andiamo subito a leggere i quotidiani cominciamo purtroppo dalla tragedia di laura morta un mese dopo luigi siamo una comunità in ginocchio oggi ci sono i funerali e gallo di petriano il sindaco il sindaco davide fabrizioli dice stiamo attraversando un periodo terribile un mese fa è morto in un incidente stradale in moto a luigi elessi di 31 anni adesso laura di 20 anni siamo sconvolti la funzione religiosa avrà inizio alle 15 e 30 nella chiesa del paese e poi a fano invece lo storico pescivendolo guardate lo riconoscerete sicuramente in tantissimi perché perché è stato derubato una disavventura per questo signore si chiama giannino castellini a 76 anni lui racconta ho tutto ben chiaro fino ad un certo punto poi non mi ricordo più nulla non mi so dare pace ho solo conservato la penna e la carta che ha usato questa donna per le impronte digitali da un certo momento lui dice io non ricordo più niente aiutatemi a ritrovare quella ladra e la descrive in questo articolo nel questo articolo del resto del carlino lo segue in casa e gli ruba un orologio e una caterina probabilmente è stato seguito è stato seguito già da da qualche giorno il giorno prima forse al bar infermieri bersagli mobili ha fatto davvero impressione ed è stato impressione quella notizia la vicenda di quell'uomo che è entrato guardate con questa spada l'abbiamo indicata con la freccia qua sotto una spada è entrato dentro al pronto soccorso di pesaro da girato indisturbato per un po di tempo fino a quando grazie al sangue freddo di un agente di polizia che gli si è gettato senza indugi addosso per evitare la tragedia quest'uomo è stato fermato è entrato al pronto soccorso intorno alle 22 e 30 di venerdì con quest'arma bianca in mano alla rabbiosa ricerca di un ambulatorio di un uomo quest'uomo che aveva fatto poco prima a pugni in strada insomma pensava di ritrovarlo dentro al pronto soccorso quindi lo stava andando a cercare con quest'accia insomma voleva farsi giustizia da solo ora però c'è c'è il problema un problema serio cioè in molte adesso chiedono che venga ripristinato il posto di polizia all'interno dell'ospedale così come come c'era un tempo nel luglio del 2009 il questore di allora fece un accordo con la direzione ospedaliera per riaprire questo ufficio interno cambiamo argomento dopo la cronaca invece la il salone del mobile di milano una magnifica annata per fortuna belle notizie poche chiacchiere molto lavoro clima molto positivo tra immobilieri il presidente della camera di commercio di pesaro rubino drudi dice e parla di produzioni di livello noi abbiamo esposto nello spazio dice scavolini della diesel e siamo soddisfatti quindi buone notizie per l'economia possiamo dire e dalla pagina di pesaro allo sport per parlare di questo successo azzurro ieri si sono conclusi si è conclusa la coppa del mondo di ginnastica ritmica al palazzetto dello sport di pesaro le farfalle azzurre volano doppio oro alla world cup e bronzo per la a giorgiuculese che ha vinto salita sul podio terzo posto e adesso si attendono i mondiali perché dal 30 di agosto al 3 di settembre sempre all'adriatico arena di pesaro ci saranno i campionati mondiali di ginnastica ritmica che per la prima volta si disputeranno in italia questa la queste le pagine del resto del carino andiamo sul correo adriatico anche qui in apertura vedete il pronto soccorso nella terra di nessuno assalto con la catana tragedia sfiorata più sicurezza per personale paziente a centro baggine invece una foto del del fano dei giocatori del fano purtroppo per il fano c'è stato un brutto cappa o la classifica adesso fa paura c'è davvero il rischio di ritrocessione allo stadio mancini di fano vince il pordenone 3 a 2 granata anche sfortunati mentre la vis pesaro in serie di non segna più solo pari bene invece e lo leggiamo qua sopra in piccolo una grande vl basket vince a brindisi e dunque torna penultima per un punto insomma l'importante è in questo caso vincere sulla pagina di fano del corriere si rafforza il conflitto di interessi c'è anche una procura speciale parliamo dell'aeroporto santorelli connection all'aeroporto l'ex amministratore chiede 325 mila euro per la revoca da fano infortune il pronto soccorso anche qui vedete il terra di nessuno medici infermieri pazienti in sicurezza l'assalto con la catana poteva finire in tragedia l'ipasvi chiede l'intervento della direzione sanitaria anche il sindacato di polizia solleva il problema è andata bene perché l'altra notte c'erano comunque due volanti si parla della spiaggia dei cani a fano è una realtà spiaggia friendly per i cani pesaro invece delega fano la crea un settore del turismo che sollecita ma i due centri balneari hanno scelto un approccio diverso negli stabilimenti del capoluogo spazi riservati ai quattro zampe solo su richiesta dei bagnini la notte dei desideri invece quella dove si fanno volare le lanterne questa è un'edizione una foto che riguarda l'edizione dell'anno scorso questa questa manifestazione ora spiazza la proloco di fano perché la regione l'ha fissata al 28 di luglio a fano già prevista però il 12 e il 13 di agosto di spalla invece santa maria nuova ancora chiusa per il ripristino dopo il sisma siamo sempre a fano i lavori non sono stati ancora ultimati adunque per le feste di pasqua anche il triduo pasquale che inizierà tra qualche giorno insomma i fedeli saranno ancora ospitati nel salone notte rosa invece l'ultimo bye bye noi non torniamo indietro per fano nessun ripensamento mentre pesaro si è ha subito detto che farà parte della notte rosa questo evento nato in romagna e che sta tentando di inglobare anche la regione marche parte della costa marchigiana però fano si è detta no se si tira indietro si è tirata indietro l'ha già detto nessun ripensamento quindi non aderirà all'evento per il 2017 non ci ripensa questo evento è concentrato infatti in romagna non c'è azzecca nulla con noi organizzeremo un carnevale estivo e parteciperemo alla notte dei desideri ha detto almeno ha dichiarato così il sindaco il vice sindaco stefano marcheggiani però il 7 di luglio il sindaco matteo ricci ha detto invece che pesaro ci sarà ci sarà nonostante qualcuno abbia storto il naso perché pesaro è stata dimenticata nel nel video promozionale l'altra pagina del corriere dopo la postrada non si chiuda anche la polposta cioè la polizia postale sempre il sindacato si ulp chiede al ministro minniti di ripensarci internet con tutti gli effetti collaterali del caso dalle truffe informatiche alle violazioni dei profili insomma la polizia postale rischia di chiudere ma sarebbe bene che restasse invece lì aperta dalla pagina del valle del cesano speed check quelle colonnine che servono vedete le colonnine queste qua che servono per per vediamo se ci ho beccato sì eccola qua la freccia vedete queste colonnine sulla provinciale pergolese di mondolfo sono stati collocate gli ultimi rilevatori elettronici di velocità parte un progetto complessivo un programma impostato sin da quando ci siamo insediati come giunta detto l'assessore alla viabilità giovanni di tommaso dunque attenzione bisogna andare piano ma se volete insomma ci sono queste colonnine che ci ricordano che in certe strade non siamo sulla pista sul circuito di monza ma siamo sulla sulle provinciale che tra l'altro sono anche messe male allora questa è la pagina di senigallia invece la pagina di senigallia eccola qua è rivolta contro il senso unico i residenti vanno contro mano caos a cesano anziché 50 metri gli automobilisti costretti per correre due chilometri multe dei vigili l'ex presidente della circoscrizione dice la polizia municipale ha fatto bene ad intervenire l'ultima pagina è quella di jesi vandali al parco del vallato questo è il titolo imbrattato il camper club scritte sulla ex case colonica il presidente ferretti dice servono le telecamere chiudiamo con un appuntamento un appuntamento che c'è questa mattina e qui andiamo di nuovo torniamo sul resto del carlino perché vedete dal titolo la polizia premia i suoi eroi sia in divisa che in borghese oggi al teatro della fortuna appuntamento alle 10 e un quarto di questa mattina a fano si festeggia il 165esimo anniversario della fondazione della polizia e allora questa mattina in diretta la festa della polizia sarà sul canale 17 di fano tv quindi la trasmetteremo anche noi andremo in piazza 20 settembre poi vi trasmetteremo tutta la cerimonia che si svolgerà all'interno del teatro della fortuna io mi fermo qui ci vediamo dunque tra poco grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata questo è il numero per le vostre segnalazioni arrivederci